Fede, secondo te chi è il più veloce tra me e te? Allora, secondo me è il gatto, quindi io sicuramente sono più veloce di te, ne sono sicura Con queste zampe portentose non posso perdere una gara di corsa E guardati tu con quel pancione come pensi di poter correre contro... Ma pancione a chi? Contro un gatto così agile, bello perché sono bellissimo Vuoi fare una gara? Vuoi fare una gara? Assolutamente, assolutamente Va bene, facciamo una gara E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi Io sono Stefano, che si chiama GTA V E oggi siamo qui su GTA V con un episodio molto molto particolare Perché praticamente proveremo delle vere e proprie olimpiadi, ma tra animali Esattamente, allora, prima di tutto abbiamo pensato una gara di corsa Perché in effetti noi non sappiamo quali sono gli animali di GTA V più veloci Possiamo immaginarlo, ad esempio il cinghiale ovviamente è il più veloce di tutti Rispetto a un ghiopardo, boom boom, velocissimo Possiamo immaginarlo, però di fatto non lo sappiamo Quindi oggi proveremo questo, però ne abbiamo pensato anche altre Ad esempio ci potrebbe essere qual è l'animale che fa più danno Probabilmente una tigra o qualcosa del genere, però non ne siamo sicuri Possiamo provare anche ad esempio qual è l'animale che resiste a più colpi Quindi qual è il più resistente, insomma Ci sono tante cose che si potrebbero provare Ci sono tante cose interessanti da provare E quindi ci sembra un'idea molto carina Partiamo dalla velocità e direi di partire proprio da cinghiale contro il gatto Allora, siamo in questo posto che secondo me è perfetto per fare una gara di corsa Mi sembra giusto Abbiamo messo una macchina per la partenza, quindi qui dove siamo noi E una macchina al finale, perché così sappiamo dove ci dobbiamo fermare Ferre, sei pronta? Non tanto, non tanto Ho notato, sei storta Nei commenti, e metto anche il sondaggio e dovete votarlo proprio in questo istante Dovete dire chi è più veloce tra il cinghiale e il gatto Quindi prima di iniziare Allora, non solo facciamo le gare tre animali Ma facciamo anche un vero e proprio giro di scommette Bravissima 3, 2, 1 Via! Vado, vado, corri Perché non corre il mio cinghiale? Guarda il gatto, ecco lo sprint Ok, sono partito, vai, vai Ma dai, mi stai No, non ci credo Per ora ti sto seminando, bisogna vedere però se mi stanco Perché, contando quanto peso Io sono già stancato Mi sono stancato No, dai, non ci credo Gatto, ti prego Corri, corre cinghialozzo, corri Sto andando lentissimo Allora, quando arriverei dovrei girarti e vedere dove sono io Perché questa cosa è la più ridicola del mondo Sei molto indietro, io non ti posso guardare No, no Uh, finito Girati Ma Fede, ma non dicevi che eri agile, che eri un gattino velocissimo No, io te l'ho detto che mi preoccupa Perché fa un bello sprint E infatti all'inizio sono partita bene Sì, però Ma poi è davvero ridicolo Dura davvero poco Ma sai perché? Dimmi Perché sono un gatto cicciotto Visto che ti ho umiliato, proviamo con qualcosa della tua stessa stazza Quindi sono diventato un bellissimo pug Allora, se i video su internet non mentono I pug sono imbranatissimi Cioè sono di quelli che camminano e rotolano da soli Quindi capito Esatto Dovrei avere qualche speranza Allora, secondo me il gatto si è qualificato già come uno degli animali più lenti in assoluto Quindi è subito per vedere se è ancora più lento di un pug O se almeno il pug è più lento Sei pronta? No 3 2 2 1 Andiamo Via Corri pug Ti prego Muoviti Ok, sono partito Sono partito Sono partito Per ora sei davanti Per ora sei davanti Spero di non stancarmi Vai gatto, ti prego Stancati il più lontano possibile Ok, tu ti sei stancata ma anche io Vai gatto Sembra una sfida alla pari Davvero? Sì, 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 sì Ti sono dietro e ti sto raggiungendo un pochettino Cavolo, volevo vedere dietro però No, no, mi giro Non puoi Ti sono la cacagna Forse sono leggermente più veloce di te quando siamo lenti Non può essere anche un pug più veloce di un gatto Forse sì Forse è un insulto alla razza felina Secondo me ti sto prendendo Secondo me ti sto prendendo Vai un altro sprint Vai ripartita Anche io Anche io Oddio, è stato piccolissimo questo È stato piccolissimo Fammi lo sprint piccolo pug Recupera gattino Muovi quelle zampette ciccioste Forza Forza Oh mio Dio Siamo quasi arrivati Non sbagliare Io volevo fare un F3 Ok Per praticamente sarebbe una telecamera Che ci avrebbe fatto vedere in modo preciso Che avrebbe vinto Perché eravamo uguali Cioè non si sarebbe capito dalla mia inquadratura Né dalla tua Ho sbagliato tasto E sono partito dritto Allora se c'è un altro sprint vinci tu Perché quando sprinti sei un po' più veloce L'ho notato Non lo so No dai Aspetta ce la faccio Recupero Recupero Ce la faccio Ce la faccio No non recuperare Ce l'ho fatta ormai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Allora c'è da dire però che non è una vittoria schiacciante No per niente Sono praticamente pari Allora Nello sprint è più veloce il gatto Quando si va lenti è più veloce il cane Esatto Quindi recuperavo piano piano Però in un anno Quando torna allo sprint A distanza capito Corta vinci tu A distanza lunga in una maratona vince il cane Adesso sappiamo anche queste informazioni Sì è utile Comunque Probabilmente il pug è l'animale più lento Però lo scopriremo tra un pochettino Per ora possiamo dire che il gatto non è il più lento E quindi hai scelto il coyote Sì secondo me è più veloce del cinghiale Ne sei sicura? No Però ci proviamo 3 2 2 Sto segnando anche tutte le statistiche per poi fare eventualmente i prossimi E sapere già chi sfida chi Più che una renna sono un cerbiatto Però dico io guarda Se stavolta non vinco disinstallo il gioco Perché no non è possibile Cioè dai un cerbiatto è super agile Non può perdere con il cinghiale Devo essere sincero Anche secondo me devi vincere tu Quindi credo che vincerai Però con questo gioco Non è solo mai sicuro L'animale che batte il cinghiale Invincibile 3 2 1 Via 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 Parti a correre la cinghiale Parti ti prego Perché non parti mai Parti Ok ok guarda quanto corre E vabbè Guarda quanto corre Oddio sono già arrivata Sono già arrivata Non hai capito Guarda Hai messo una Ferrari Cioè ho finito lo sprint adesso Sono già arrivata alla macchina Ma dai L'ho trovato L'ho trovato l'animale che No Sconfigge Sconfigge il cinghiale Non ci credo Ma proprio malamente E vabbè Era normale Cioè perché altrimenti Era troppo sbagliato il gioco Te l'ho detto Per forza Deve vincere Ho paura che non troverò nulla Che ti può battere Eh sì No è davvero veloce Guarda Non lo so Forse la mucca Non so quanto corre la mucca Non può La mucca non può Dai Penso a qualcosa E vediamo se riesco a batterti Non hai speranze Non hai speranze Allora non ne sono sicura Perché secondo me I cerbiatti sono abituati A scappare dagli animali come te Quello di sicuro Quindi secondo me Sono parecchio veloci Quello di sicuro 3 2 1 Andiamo Via Via Corri però Corri ti prego Ok sono partito in corsa Sono partito anch'io No vabbè Ma ti sto surclassando Non è possibile Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare No Vabbè Allora Allora è l'animale imbattibile Cioè Ti dico Sono imbattibile Ho scelto l'animale imbattibile Sono quasi sicuro Che sia addirittura più lento del cinghiale Non mi prendere in giro Ok Secondo me non è speranze Vieni un po' più avanti Che non siamo bene dritti Non vorrei Sai come Capito Barare Perché già ho vinto Però vorrei darti un po' di possibilità Ok Allora inizia a partire Poi tu parti dopo No Allora ci siamo Secondo me non è una speranza Aspetta che ti faccio un mu Mi sto caricando Io sono partita La tua è partita Che è successo? Amore mio Sei l'unica speranza Ce la puoi fare Sei bellissimo Allora Sulla gara di bellezza Ti massacro Ma se sono troppo bellino Guarda che sei piena di rughe Non ho le rughe È la mia peluria bellissima Quindi non rompere Sono fantastico Sono velocissima Allora Pure la coda è più bella la mia Sono tutto più bello Sono super preparato Super allenato Ce la possiamo fare Ne dubito Però proviamo Vai 3 2 1 Andiamo Via 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 Fammi un bello sprint Uh ha sprintato prima di me Però lo supero Lo supero No no è imbattibile Continuo a dirtelo È davvero imbattibile Cioè ma adesso io voglio Fare una gara Secondo A parte che è lentissimo Lasky È proprio Poverino Non ce la può fare Infatti ti vedo quasi fermo Che arrivi Sembra che zompica Invece che correre Poverino Volevo dire Ma non è che il cerbiatto È più veloce delle macchine Non dico quelle Sportive Da corsa Ma di una macchina normale Mi rifiuto di pensare Che puoi vincere Allora Qui è molto complicato Perché comunque il cervo No facciamo delle statistiche Ok Sembra giusto prenderla seriamente Questa gara Il cervo si stanca La macchina no No allora Il cervo comunque ci mette un po' A fare il suo sprint Quindi diciamo che parte Parecchio lento Anche la macchina un po' parte lenta È più o meno Però poi anche alla fine Io non arrivo diretta alla macchina Ma devo fare un pezzetto Diciamo Mezzo a piedi Allora Sondaggio E commenti Macchina versus il cerviato Macchina abbastanza lenta La sfida della vita Sì macchina normale Perché è una semplice smart Ci siamo Non è niente di troppo veloce Preparo le ruote Non è che il motore è modificato No 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 È tutto normale 3 Vai 2 1 Vai Via via Ok Ma è partito subito con lo sprint stavolta Ok Oh yes Oh yes Ok Non di troppo eh Non di troppo Cioè è meno la differenza Tra macchina versus cerviato Che cerviato versus tutto quello che abbiamo provato Assolutamente sì Quindi comunque interessante che è davvero una velocità incredibile Bene Sei pronto a caneggiare? Sei destinato a perdere Bene Ah no però aspetta Vince Ah ah Chi è il più lento quindi Chi non arriva al traguardo Hai ragione Allora ho già vinto Sono pronto Quindi è il contrario Vince chi non arriva al traguardo Chi sceglie l'animale più lento Esatto 3 2 1 Andiamo Andiamo Ok Ok ho un bello sprint Però aspetta recupero Recupero con lo sprint Penso che sono talmente piccolo Che neanche vedo Cioè mi si sfaca la vista Perché sei un piccolo 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 Lo so lo so In questo mondo gigantesco Allora io adesso sto andando piano Anche io Ok Sto cercando di capire chi è più veloce tramette Quando si va piano E forse sai che ti sto recuperando Davvero Ho già in mente un animale che potrebbe essere più lento delle topo Però non te lo dico perché lo devi trovare tu Io ho sofferto a cercare qualcosa per battere il cerviato E neanche ci sono riuscito Quindi adesso dovrei soffrire tu per trovare qualcosa di più lento Sei arrivata? Sì e tu sei No sei molto più lento No vabbè guarda No vabbè un po' di distanza c'era Un po' di distanza c'era Abbastanza bene Abbastanza bene Eccomi qua E quindi hai scelto la gallina Fere Sì sono un bellissimo gallo Quindi sfida finale di lentezza Gallo versus topo Era proprio quello che avevo in mente Non so se è più lento Però se c'è qualcuno che può esserlo È proprio lui Perché la tartaruga non c'è purtroppo O la luaca No vabbè non ci sono tutti gli animali Bisogna tenere presente questo E oltretutto gli altri che mi vengono in mente Secondo me sono un po' più veloci Quindi è un buon tentativo Quindi sei pronta? Sì prontissima Apriamo le scomeste Guarda è sorto anche il sole Per vedere chi è più lento Quindi è tutto pronto Per vedere le nostre gare Mi sembra giusto 3 2 1 Andiamo Fere Via Ok allora Nello sprint sono leggermente più veloce io Ma siamo quasi pari Esatto Bisogna vedere però appena finisce lo sprint Anzi Anzi Tutta sfocata Fere Allora quindi io ho trovato il più lento E tu il più veloce Esatto Esatto Equo Equo Quindi il cerbiatto è l'animale più veloce del gioco Il topo invece è l'animale più lento del gioco Buona sapersi La terremo a mente Voglio giusto provare un'ultimissima cosa Un po' pazza Che non so se ti piacerà Ma voglio provare un'ultima volta A battere il tuo cerbiatto Mi è venuto in mente Che E sarà in una gara tutta sua Però una volta voglio provarci Che esiste un animale Che potrebbe essere più veloce Però non è propriamente normale Fere Allora non so se questa cosa è molto valida Perché tu vuoli o no Eeeh Teoricamente però L'animale più veloce Teoricamente L'aquila è un animale Eh sì Allora ci sta come ultimo tentazione Ok Perché comunque era giusto provare quelli terrestri Esatto E magari dedicare Una gara particolare A quelli che volano Per quello ti ho detto Sarà un'altra gara Però Volevo metterlo almeno una volta in mezzo Dai ci sta Sinceramente dubito di vincere Però ci voglio provare Andiamo Siamo pronti? Sì 3 2 1 Andiamo Via Stai volando? Sì Che succede? Perché sei morto? Cosa hai fatto? Mi sono schiantato Ho fatto esattamente questo Fere guarda Non sei riuscito a volare? No Ci tengo a precisare che sono rimasto 10 minuti a imparare a volare Perché era vero scomodo Assolutamente sì So già chi vincerà ma non lo dico Sei pronta? Come lo sei già? E beh volando ho capito la mia velocità Ah ok vai 3 2 1 Andiamo Vai Ok 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 Io non corro Ok sto correndo Sto correndo Dove sei tu? Eh vado un po' storto Eh ti vedo a essere tutto storto Ok Ok Dai non era male Non era male Dai Io però sono arrivata Aspetta ho vinto Riproviamoci E adesso sono molto più gasato perché forse ti batto all'ultimo Sei pronta? Vai 3 2 1 Andiamo Via 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 Ti prego parti parti di sprint Ok non ti schiantare Bravo Sto andando benissimo Sto andando benissimo Ci sono Dai Ci sono Mi stai raggiungendo ma ti devi stancare Ci sono Stancati Stancati Ho vinto Ma dai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quindi l'animale più veloce è il cerbiatto L'animale più lento è il topo L'animale volante è più veloce rispetto a quelli terrestri Sembrerebbe l'aquila Ma andranno provati Tutti gli altri volanti Però direi che comunque abbiamo tante informazioni E ci possiamo fermare Io spero che questo format vi sia piaciuto Nel caso lo possiamo fare appunto con tante altre cose Quindi speriamo che vi sia piaciuta questa idea Fateci sapere con i commenti e con i sondaggi E lasciando tanti likes E ci fermiamo così Per ragazzo di lasciare un sito Ti lasciate un like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao